buonasera a tutte e tutti grazie per essere venute e venuti allora stasera non so se siete capitati qua per caso o se volevate proprio venire qua o siete venuti per scappare al freddo torinese abbiamo la presentazione del secondo volume di questo di questa saga meravigliosa che hanno scritto maria scoglio e cristina tagliabue che si chiama missione democrazia io sono sì missione parità per perdonate missione democrazia era la prima era il primo libro io sono metà di mamma di merda la metà mamma e lei è di merda io sono ma invertendo l'ordine dei fattori il risultato non cambia questo io sono francesca fiore lei sarà malneric e vi così guideremo alla presentazione di questo libro che è pensato per i ragazzini giusto volete darci volete cominciare voglio introdurre il target la fascia di età per per i quali è pensato questo libro l'abbiamo pensato per gli adulti e poi però abbiamo detto per convincerli diciamo che per bambini è così forse sì il target lo raccontiamo raccontando perché abbiamo deciso di fare di provare a vendere una candidatrice questa collana noi siamo diventate mamme in anni più o meno che combaciano io un po' prima e un po' dopo e ci siamo tante volte interrogate come amiche come mamme su come raccontare ai nostri figli delle cose importanti per noi quando era il momento giusto con che parole con che tono come una favola come la realtà facendogli vedere le news ci sono mille modi è molto difficile no perché poi sono temi complessi che spesso non abbiamo le parole per per raccontare non abbiamo non ci ricordiamo non abbiamo la competenza non ci va è tardi sono stanchi pensiamo che loro si annoino e quindi per rispondere a questa esigenza ci siamo inventati sofia leone ci siamo inventati delle storie fantastiche siamo partiti col primo libro poi col secondo e poi possiamo dire una piccola curiosità che sofia e leone sono i nomi dei vostri bambini in realtà sì diciamo la questione è un po verso di me c'è più che altro riferita entro al mio universo perché mio figlio si chiama leone in realtà sofia sarebbe inventato in alternanza in alterità rispetto a leone perché in realtà maria ha due bambini che si chiamano antonio e mila a cui abbiamo dedicato il primo libro esatto il primo libro mentre il secondo in realtà della parità è dedicato ai compagni ai nostri mariti compagni insomma fidanzati temiamoli come vogliamo e quindi sì in effetti i nomi dei protagonisti dovevano essere inizialmente dei nomi molto più altisonanti molto più storici che erano nilde e alcide poi in realtà poco prima dell'uscita abbiamo visto un altro libro che stava uscendo proprio con protagonisti simili con proprio gli stessi nomi che fantasia nilde e alcide sì esatto ci piaceva neanche cioè visto lì abbiamo detto no però è un po' respingente chi chiama alcide il figlio ai giorni nostri è abbastanza no sì sì particolare ma d'altronde chi chiama leone il figlio ai giorni nostri parliamo è invece un nome di grande tendenza ultimamente esatto è una battuta è una battuta bene però ci terrei a dire che leone è stato scelto prima che la coppia reale italiana scegliesse il nome del primo genito hai ragione che anche noi abbiamo la monarchia in italia allora a proposito di nomi il libro si apre però con un altro coprotagonista che in realtà c'è c'è una subplot non so come dire una sottotraccia una storia nella storia la storia di questo libro in realtà la struttura più o meno è sempre la stessa ovvero c'è un elemento magico succedono succedono delle cose il viaggio dell'eroe e dell'eroina in questo caso c'è una situazione succede un qualcosa che cambia le condizioni iniziali che turba un equilibrio che in questo caso un equilibrio emotivo della protagonista di sofia e che nella vita vuole fare la vice allenatrice di calcio lei già è una calciatrice della squadra del libertas in cui gioca con il suo migliore amico leone e altri compagni e compagni di scuola e come a molte di noi è capitato nella vita lei sta vivendo il sogno sta vivendo il suo sogno di fare la calciatrice e a un certo punto qualcuno le fa notare che tu puoi anche vivere il tuo sogno come donna come femmina però il fatto che poi arrivi a realizzarlo che tu arrivi davvero a ricoprire dei ruoli apicali no dai cioè adesso anche meno no già ti abbiamo fatto giocare a calcio già ti abbiamo fatto toccare la palla adesso insomma che arrivi addirittura a governarla no a governare delle altre persone maschi e femmine ci sembra un po' eccessivo quindi in questa saga qui l'elemento magico è un libro che Sofia e Leone trovano un libro che permette loro di viaggiare nel tempo adesso io vedo che ci sono dei bambini che non so se abbiano già letto missione parità missione democrazia e quindi non vorrei spoilerare troppo quindi mi terrò sul vago per certe cose però il libro in realtà si apre dicevo appunto con un altro personaggio che si chiama Tommaso che è un po' il bullo il bulletto della classe bulletto della classe ma come insomma chi di chi di noi è genitore genitrice sa che ha a che fare con i bambini sa che spesso i bambini sono il riflesso di altre situazioni no di qualcosa che vivono in casa che ascoltano e i bulli di solito sono bambini che hanno reagito a determinate dinamiche e Tommaso è un po' uno di questi perché la mamma di Tommaso non lavora ad esempio o Tommaso da piccolo gioca a fare i lavori i mestieri di casa aiutando la mamma e gli viene detto ma queste sono cose da femmina tu non te ne devi occupare devi fare altro e questo apre ci sono già tantissimi spunti in realtà in questa cosa qua dal lavoro delle donne che chi ci segue ci conosce un tema che ci sta particolarmente a cuore c'è il tema degli stereotipi di genere e dei condizionamenti no e dei bias che poi spesso gli adulti contribuiscono a tramandare a rinforzare nei piccoli esseri umani no che poi se li portano da grandi e poi diventano presidente del consiglio e tutta una serie di cose mi è scappata c'era una domanda c'era una perché perché li volete bene a Tommaso perché perché li volete così bene a Tommaso è sempre più affascinante della storia sì poi fisicamente assomiglia più a mio figlio del protagonista devo dire il torello mio figlio più un torello diciamo tipo Tommaso rispetto che magretto con gli occhialetti eccetera per cui anche fisicamente un po' Tommaso è così e poi Tommaso Tommaso un po' dai rispecchia tutti i ragazzi che abbiamo incontrato noi alla nostra giovinezza cioè no il bambino un po' ego riferito maschilista che pensa a se stesso il bambino i bambini tutti sono un po' no hanno bisogno di pensare a se stessi ovviamente sono no dovrebbe chiedere a loro se conoscono un Tommaso che prende sempre in giro tutti soprattutto le bambine che appiccica le gomme sotto i banchi che scrive fa i disegni le caricature prende un po' in giro no no tutti bravi bene quando lo incontrerai sappi che dentro quel bimbo c'è comunque un cuore buono basta solo lavorarci comunque Tommaso per dire Tommasa poteva anche essere una femmina la bulla non è che deve essere per forza maschio però noi abbiamo scelto Tommaso perché in tutte le storie in tutti i libri c'è Tommaso è sempre quello che fa un sacco di disastri quindi quindi in questa storia però in particolare invece fa poi alla fine comunque spinge diciamo il suo papà e la sua mamma all'interno di un'avventura nuova che è quella di cambiare un po' i mestieri e i compiti anche che sono all'interno della famiglia ci divertivano che Tommaso fosse il prodotto poi inconsapevole di una cultura familiare in cui il padre lavora e la mamma ha lasciato il lavoro volontariamente quindi la mamma nega a se stessa anche di essere nostalgica rispetto alla sua vita precedente quindi Tommaso non sa nemmeno che la mamma lavorava e sì forse si ricorda qualche discorso però fondamentalmente ma davvero mia mamma può fare questo? si stupisce e una delle cose che appunto con Cristina tutte noi mamme che lavoriamo ci sentiamo in colpa c'è una base no? che lavora dentro di noi che quindi in qualche modo c'è il senso di colpa non un senso di colpa nelle madri lavoratrici nelle madri proprio il senso di colpa a prescindere insomma da quello che fanno il senso di colpa ci accompagna subito no? appena ci abbiamo partorito ti danno senso di colpa senso di inadeguatezza e via andare adesso gestiscitela te però c'è ancora di più quando torni a lavorare o vorresti tornare a lavorare e ti vergogni magari di dire che a te lavorare ti piace pure perché questa cosa cozza e crea un cortocircuito con la tua funzione primaria quella che ti viene riconosciuta che è fare figli io credo che non stia dicendo nessuna cosa nuova per le persone uomini e donne che sono venute oggi qui c'è un motivo anche evidentemente se siete venuti a sentire la presentazione di un libro che si chiama Missione Parità quindi sono temi su cui sentite già molto o su cui siete sensibilizzati che avete vissuto in prima persona il tema delle donne del lavoro e della realizzazione è il ritorno in realtà questo è un testo molto denso perché tutto il tema della questione di genere ci sono tutte le sfaccettature cento e più discriminazioni diciamo di genere ecco le trovate un po' tutte qui ma tra l'altro anche diciamo con le giuste risposte che vorrete fornire ai bambini anche con l'articolo della Costituzione che le vieterebbe queste discriminazioni e c'è nel tema della nonna di Sofia il tema delle donne della realizzazione di come in realtà sia una questione mai risolta perché le donne spesso ci viene detto ma prima le donne stavano a casa e tutto funzionava bene andava bene ma chi ve l'ha detto? ma qualcuno gliel'ha chiesto? gliel'ha mai chiesto a queste donne degli anni 50 se erano felici davvero? se quella era la vita che volevano fare o se semplicemente era così e si sono dovute adeguare se il patriarcato interiorizzato ha lavorato in loro al punto di far credere loro che quella fosse la vita migliore che potessero avere il sogno più grande che potessero sognare quello di fare una famiglia e fare dei figli e stare a casa mi è partito l'embolo ma tra l'altro questa parola patriarcato interiorizzato l'ho vista anche in una cioè a parte che se ne parla tantissimo ovviamente però l'ho vista anche in una serie americana per cui ho detto beh non siamo solo noi italiane così cioè proprio un'avvocatessa a un certo punto è stata l'embolo come te adesso e parla di patriarcato interiorizzato quindi vorrei dire ma voi lo sapete cos'è il patriarcato interiorizzato? o introiettato lei dice di no però però anche lì il risultato è lo stesso però Sara forse dovessi spiegarlo un po' cos'è questa cosa perché c'è quella bimba che ha detto che non lo sa promettiamo che nel libro non nel libro non c'è la scheda sul patriarcato interiorizzato diciamo è un modo di dire è un modo di raccontare il fatto che certe volte neanche noi ci rendiamo conto ci siamo rese conto di quelle che erano delle regole non dette che magari erano un po' sbagliate che non ci stavano bene no? però tutto andava così e quindi nessuno ha mai pensato di cambiare quelle cose proprio perché in qualche modo perché non sei neanche consapevole tu adesso vi racconto questo aneddoto che è successo è una cosa che mi è successa ieri allora Elisabetta Canalis ha questo profilo su Instagram ovviamente seguitissimo poi tutte conoscete, tutti conoscete Elisabetta Canalis non mi sembra una casalinga no? no allora lei ha una figlia di 4-5 anni e la figlia come compito a scuola le hanno chiesto di disegnare sua mamma quindi fare due disegni di sua mamma in due attività e lei ha disegnato la mamma mentre passa la scopa per terra e il secondo disegno era la mamma che spolverava affettava le carote affettava le carote con la mannaia affettava le carote con la mannaia e passava la scopa per terra al che io mi sono messa a ridere le ho scritto in privato intanto ci scriviamo perché lei ha un grandissimo senso dell'umorismo anche quindi ci segue così fa il tifo allora le ho scritto sì ti vedo proprio a spazzate tutti i giorni là con lo Swiffer Elisabetta Canalis chi chi non è una DV la donna più emancipata del mondo e allora Alessia mi sta a ridere io ho detto guarda io ho la stessa che ho una vita sicuramente meno brillantona della sua anche però ho questa sensazione che i figli ci vogliano casalinghe cioè dentro di loro c'è una parte che ci vorrebbe sempre sul divano a sferruzzare e non si rendono neanche conto della fortuna che hanno invece di avere l'esempio di una madre emancipata che fa delle cose per se stessa anche se questa cosa forse gli fa soffrire in una certa misura perché tu ovviamente questo tempo lo devi togliere anche a loro per fare altre cose però noi siamo degli esseri complessi noi siamo tante cose noi dobbiamo anche riprenderci le donne che siamo dopo essere diventate madri e quindi sicuramente c'è un tema di questo tipo fortissimo e i nostri figli che cos'è patriarcato interiorizzato non lo so perché in effetti io mi arrabbio sempre perché le mie figlie se la prendono solo con me se lavoro e io dico sì ma vostro padre sta lavorando esattamente quanto anzi lavora molto più di me quindi perché io perché è un tema solo per me in qualche modo è passato anche se hanno un esempio di donna emancipata però è passato lo stesso cioè l'aspettativa sociale per loro in qualche modo ha influito e quindi è un lavoro è un lavoro faticoso noi stesse dobbiamo renderci conto e poi provare a trasferirlo ai nostri figli infatti è una delle cose che appunto più tenere del libro è quello di Tommaso che dice io voglio essere fiero di insomma che dice anche al papà io sono fiero di te se tu aiuti mamma con ognuno ci si deve prendere un po' di azione della famiglia quindi ognuno deve praticamente prendere su di sé un po' dei compiti che svolgeva mamma perché anche psicologicamente una donna ha bisogno di sentire che sia le cose pratiche che le cose morali, emotive non sono interamente su di sé e quindi l'orgoglio di un bambino per un padre che cambia atteggiamento che scardina su se stesso queste cose che gli vengono insegnate da piccolo l'uomo certe cose non le può fare e un bambino che è fiero della mamma che lavora ci piaceva tantissimo raccontare questo aspetto oltre alla parte di stereotipi che sono importanti però sentire i bambini provare a capire come si sente una mamma che ama il suo lavoro come si sente una mamma a cui dici sono fiera di te ecco questo è Tommaso quindi sì assolutamente ci è piaciuto Tommaso Tommaso in realtà ha un motore di cambiamento quindi Tommaso li vogliamo bene anche perché è un personaggio in realtà molto positivo e l'altro messaggio mi sembra che ci sia nel libro è è proprio quanto invece si possa apprendere dalle nuove generazioni e quanto ci possono fornire delle chiavi di lettura sempre se chiaramente ci facciamo trovare aperti noi aperte e pronte all'ascolto è disponibile ma davvero non con quella formula che adotto io spesso con mia figlia diciamo sì sì brava no? e tu nel frattempo stai pensando posso fare questo questo o quell'altro no? e e e quanto in realtà sia noi possiamo influire con il nostro comportamento e con le nostre parole il peso che possono avere no? appunto nella nel rinforzo di certi bias o stereotipi o anche nella percezione di sé no? e a loro volta però quanto loro possono anche condurci altrove no? influenzarci e e Sofia e Leone sono due bambini che non solo influenzano gli adulti ma cambiano spesso il corso no? proprio delle vite no? o le forme mentali e gli atteggiamenti che hanno gli adulti verso certe questioni in questo io veramente ho trovato tantissimi spunti e e molto più del primo che comunque era anche il più difficile forse io non so i prossimi tra l'altro i prossimi poi dopo ce lo dite è un libro sulla sulla costituzione in cui vengono analizzati gli articoli quindi immagino che sia stato una complessità inenarrabile ma c'è un in realtà c'è la parte di storia e di testo scritto in una maniera molto comprensibile con dei passaggi si sente una voce narrante più forte in questo libro qua no? anche più poetica ma ci sono dei cioè sembra un film un po' della Pixar che si capisce no? che c'è tutta una dimensione che è per i bambini e poi c'è tutta un'altra dimensione una sola dimensione che è un continuo nicchiare no? e dare di gomito agli adulti io ho trovato tantissime di queste cose no? cioè siete riusciti addirittura in una frase a spiegare il benaltrismo che ci sono adulti che ancora fanno fatica a capire che cosa sia ok? la devi solo trovare devo solo ritrovare tienoci comode questo problema della cescità che ormai mi affligge da un anno non so se a voi è capitato passati 40 anni ma vi saprò dire perché io non li ho ancora compiuti 40 anni come tutti sanno allora mannaggia prima l'avevo visto e mi ha fatto volete vuoi fare un tip tap al volo così eccolo ho trovato le femmine allenano le femmine e i maschi possono allenare sia i maschi che le femmine e nella libertas sono praticamente tutti maschi mica ci vorrei rimanere male e fare capricci proprio adesso che abbiamo un campionato da scalare eh problemi delle donne non sono veri problemi sono falsi problemi sono capriccetti noi pensiamo quando la mamma pensa a profumi Balocchi ci insegnava la canzone popolare e questo è quello che spesso noi ci sentiamo dire che i nostri problemi sono ben altri problemi a volte ci vogliono insegnare anche quelli sono i nostri sono ben altri problemi delle donne non so adesso siete così puntigliose sulle parole le parole definiscono la realtà la costruiscono strutturano il pensiero le forme mentali le parole sono fondamentali riflettono il livello di civiltà e il livello di evoluzione di di un posto anche le carceri diceva qualcuno e scusate allora ho letto bene che ci sono c'è questo doppio registro l'ho visto bene? ma abbiamo molto discusso prima di questo libro forse perché appunto siamo un pochino più preparate sulla maternità e sulla parità e sulla costituzione è evidente sia per la nostra storia sia anche un po' per i nostri interessi e il nostro vissuto e quindi quindi in realtà sì c'è da una parte appunto un'avventura che racconta diciamo e fa diventare divertente se vuoi il raggiungimento dell'obiettivo che sono le nostre piccole grandi missioni questa è la missione a parità quindi ovviamente l'obiettivo alla fine del libro che cosa sarà? sarà di migliorare lo status quo della situazione no? e poi c'era proprio anche l'obiettivo di lavorare un po' sull'immaginario questo immaginario abbiamo fatto fatica anche io e Maria in realtà a lavorarci e a lavorare per raccontare qualcosa che non fosse offensivo nei confronti di nessuno e che al tempo stesso appunto fosse propositivo rispetto a un cambiamento il nostro tema centrale era proprio questo del lavoro e dell'indipendenza economica perché la vera missione parità in realtà avviene nel momento in cui c'è l'indipendenza economica della donna quindi della madre dire della madre è un passo in più rispetto a chi dire della donna perché è chiaro che dopo che hai fatto il tuo percorso di studi comunque lavorerai eccetera eccetera però quando diventi madre no? affronti uno scalino un burrone che inevitabilmente ti mette a rivedere rimodulare comunque anche la tua carriera professionale il tuo percorso no? è inevitabile che ci sia uno stop perché stai facendo un'altra cosa altrettanto impegnativa e importantissima quindi ciò nonostante diciamo in questo stop ci abbiamo messo la nostra forte energia e pensiero nel raccontare una storia che permettesse di fare un restart no? o che fosse uno stop and go e non fosse semplicemente uno stop e una brusca frenata no? ma un momento di passaggio positivo all'interno del quale anche i bambini e anche tutti coloro che stanno intorno e osservano qualcosa che è cambiato ovviamente nella famiglia un equilibrio i compiti no? lo trasformassero comunque in un momento in cui la donna la ragazza la bambina si potesse riappropriare in qualche modo del proprio desiderio iniziale di realizzazione professionale di indipendenza no? quindi il fatto che ne abbiamo anche discusso con la casa editrice in realtà raccontassimo che la mamma dovesse tornare a lavorare doveva per forza tornare a lavorare in questa storia c'era una mamma che non lavorava che aveva rinunciato e doveva ricominciare e doveva essere vissuta come una vittoria anche da parte del bambino no? anche se la mamma certe volte non riesce più ad accompagnarlo all'asilo questa è una cosa molto difficile ovviamente da appunto far interiorizzare ai bambini ma lo sa bene che una mamma ci ascolta perché comunque è sempre un passaggio molto complesso delicatissimo difficile eccetera però è anche vero che è necessario è necessario per arrivare a come dire un nuovo e diverso equilibrio senza il quale comunque secondo me l'equilibrio della famiglia diventa un disequilibrio oggi nel 2023 quindi questa è stata la cosa più difficile perché ovviamente convincere anche i bambini della nostra storia che sono i bambini nella nostra testa ovviamente che poi entrano e diventano libro però dovevamo trovare questo tipo di escamotage e farlo vivere come se non come se farlo vivere come quello che è cioè un'avventura di riappropriazione dell'identità femminile anche in cui il primo che facesse il tipo fosse il bambino no? senza che il bambino dovesse rinunciare a qualcosa ma in cui guadagnasse addirittura a qualcosa no? in cui tutti avessimo da guadagnare questa era un po' la forse sì avete reso evidente dove guadagna il bambino che non è così evidente normalmente no? perché tu vedi che tua mamma non ti accompagna più all'asilo però che cosa stai guadagnando nel frattempo non è una cosa che ti dà un qualcosa di positivo magari nell'immediato no? nell'immediato ti toglie qualcosa perché c'è meno tempo e i bambini misurano tutto in tempo esatto in presenza esatto la presenza in quanto mi guardi in quanto mi stai a fianco in quanto ci sei non puoi neanche pensare dire il tempo è compensato dai soldi perché non è una misura non è una cosa che sarebbe neanche giusto e non lo è peraltro no? non lo è neanche per noi perché non è questo neanche per noi e poi facciamo le nostre valutazioni anche economiche no? nel momento in cui andiamo a lavorare certamente rientrano però ma un bambino non interessa perché dopo che ha quello che è necessario avere tutto il resto non ha non dà un peso giustamente l'infanzia è proprio questo non doversi preoccupare sono fortunati i nostri bambini perché non si devono preoccupare di non avere la cena la sera o del paio di scarpe no? infatti noi abbiamo appunto voluto mettere questa è una battaglia collettiva questa è una battaglia di una classe intera quindi era la battaglia di Tommaso che sostenuto da Lione e Sofia porta tutti i suoi compagni di classe con la maestra dal papà a presentargli questo nuovo schema familiare che dovranno mettere in campo per far tornare la mamma a lavorare quindi è comunque una conquista che è la conquista delle donne che lavorano una conquista collettiva quindi di una famiglia ma di un gruppo che è la classe di una bambina che ha una malattia e con la mamma sarà in grado di curarla e di una società intera che ha bisogno comunque dell'apporto delle donne che lavorano ha bisogno della nostra testa della nostra umanità della nostra modo di stare al mondo non solo a casa per cui sicuramente cioè ci piace che vi sia piaciuta questa parte perché forse è quella al di là del sogno di Sofia quella su cui giochiamo di più la nostra svolta ecco di una cosa cara Cristina perché Cristina è la direttrice di un giornale che si chiama La Svolta e quindi scusate no a DV anche questa ok solo amicizia però in realtà anche Sofia sta lottando per la sua realizzazione professionale in un certo senso quindi il tema è perfettamente finente le due storie si incrociano però davvero questa è una battaglia che si deve portare avanti tutte e tutti insieme e non esiste un maschio contro femmine perché a un certo punto succede anche questo chiaramente c'è questa rappresentazione che è un falso cioè è un problema reale perché però purtroppo è una è un falso sentire perché non c'è nessuna guerra tra i generi cioè spesso sembra che questa guerra sia stata generata dalle femministe userò per la prima volta in 40 minuti questa parola queste femministe incazzate ho usato anche una parolaccia che sicuramente non avete mai sentito voi bambini sembra che siamo sempre così arrabbiate che ce l'abbiamo con gli uomini non è assolutamente così non è assolutamente così perché gli uomini stessi rimangono vittime dello stesso sistema patriarcale che è stato costruito intorno a loro e per loro però in realtà è lo specchio di un sistema di potere in cui c'è un up e un down un'egemonia quindi c'è sempre uno squilibrio questa cosa è veramente molto sottile per questo dico va benissimo anche per gli adulti c'è un passaggio in cui viene ma in una frase e mezza poi questa cosa mi fa impazzire poi io vabbè sono l'ugurraica per lì mi servono sette cartelle per spiegare lo stesso concetto una frase e mezza e mi viene spiegata esattamente come funziona il sistema patriarcale e come in maniera poi ancillare venga sostenuto anche dal non solo dagli uomini ma anche dalle donne in questo caso è tutto un intorno alla battutaccia di Tommaso si chiede quante volte no voi avete riso più o meno era così per compiacerlo ed è esattamente così cioè in uno scambio spiegato come come perché da secoli no questo sistema patriarcale riesce a a a proliferare no e riesce ad autoconservarsi perché in realtà non è uno non sono due non sono tre non sono dieci è tutto un sistema che funziona così si sostiene così spesso anche le donne no colludono con questo sistema qua mi sono perduta adesso perché stavo dicendo questa roba qua ah poi c'era un'altra segnalazione che volevo fare piccola segnalazione interrogazione allora questi bambini vanno in gita a un certo punto e si accorgono al museo delle cere che i personaggi importanti italiani rappresentati sono praticamente tutti i maschi e ci sono delle sparute sparuti gruppetti di femmine in particolare ce n'è una cioè Rita Levi Montalcini e per fortuna noi sappiamo che adesso non è più così no sembra che comunque un sacco di donne al potere sì in effetti sì una ce n'è e e che ci sia una grande rappresentazione no dei generi un'equa rappresentazione e a un certo punto eh un bambino osserva sì abbiamo imparato che le vere persone importanti non sono gli influencer ma gli scienziati politici gli scrittori potrebbe essere un bias questo potrebbe essere un pregiudizio uno stereotipo perché insomma io ho pensato no adesso da influencer da influencer a parte mi sono leggermente piccata no va a parte questo eh mi ricollego a quanto dicevo prima no all'importanza di sapere ascoltare veramente queste nuove generazioni pensiamo a a quanta divulgazione attivismo invece hanno fatto ragazze e ragazze più giovani di noi sui social io ho pensato all'importanza che hanno avuto i social gli influencer i tiktoker nella rivoluzione che sta succedendo in Iran e che hanno pagato le conseguenze le stanno pagando c'è una ragazza una tiktoker è scomparsa non si sa che fine abbia fatto ricoverata in ospedale ma insomma eh forse sarebbe il caso di no anche qui noi adulti adulti rivedere i nostri bias rispetto ai nostri pregiudizi rispetto a dei nuovi modi di comunicare di fare l'attivismo eh ai nuovi media ai nuovi canali che si utilizzano non buttare il bambino con l'acqua sporca scusate i bambini di nuovo ok non ci avete pensato questa cosa cioè sì cioè il tema della cittadinanza digitale prima di tutto è è importante e ovviamente è una cosa che richiede quasi un libro rispetto che visto che noi lavoriamo in missione in missione ci potete fare uno spoiler anche di dove andrete uno spoiler dove andrete con la allora intanto la collana di quanti altri libri sarà composta e quali saranno i prossimi temi che affronterete la collana i 4-5 libri credo e sicuramente nelle nostre intenzioni è quello di affrontare il tema dell'ecologia perché questa è una collana che è nata prima che ritornasse l'educazione civica nelle scuole che però di fatto era anche un po' stata concepita per fare l'educazione civica in casa quindi tra genitori e figli cioè ricreare quel legame anche quel dialogo sulle regole se vediamo che un po' si era spento appunto nel momento in cui l'educazione civica non era più materia di insegnamento ma anche appunto con lo sclerotizzarsi se vogliamo delle posizioni in realtà c'è anche in Italia la cancel culture e quindi è sempre più difficile dialogare avendo opinioni differenti e quindi noi invece volevamo con questi libri aprire un po' il dibattito in famiglia però poi quando è stata reintrodotta l'educazione civica nelle scuole ovviamente noi abbiamo pensato che questo potesse anche essere uno strumento seppur comunque in vendita in libreria anche anche utile nelle scuole per raccontare le regole in maniera diversa da qui appunto il primo libro Missione e democrazia che è dedicato alla Costituzione il secondo ovviamente è la parità di genere e già come dire nelle nostre intenzioni nel nostro progetto che abbiamo presentato a Garazzanti c'era a porte e importante il tema dell'ecologia tra l'altro io adesso guido un giornale che si occupa fondamentalmente di ecologia e quindi mi appassiona molto questa emergenza che non è soltanto di fatto un'emergenza di comunicazione è una cosa che riguarda molto i ragazzi i ragazzi sentono moltissimo e da vicino quindi sicuramente questo è una cosa che vogliamo e che pensiamo che sia importante trattare bene abbiamo visto che anche Geronimo Stilton si occupa di ambiente d'altronde se lo fa lui buona camicia a tutti se anche Geronimo Stilton esatto ha cominciato a occuparsi di ambiente e poi certamente la relazione appunto noi in alcun modo discriminiamo le voci del dibattito italiano e internazionale quindi da parte nostra non c'è il minimo snobismo intellettuale questo era un museo storico quindi diciamo facciamo fuori il presente non c'era in alcun modo la volontà anzi noi veramente crediamo molto nelle voci del nostro paese e anche di tutto il mondo che è uscito poi anche nel momento del covid che non era più presente sui media tradizionali che è uscito dai social che è un po' esploso questo per dire che certamente c'è molto protagonismo sui social media però c'è appunto anche molto attivismo il tema centrale è un po' per noi la spolverata di cialtronismo anche e poi tanti altri ismi ma quello che ci preme studiare cercare di interpretare dare degli strumenti è la relazione con il digitale proprio con internet in cui nascono i nostri bimbi e quindi aiutarli anche a pensarla oltre che a utilizzarla magari certe volte facendo un passo indietro quindi leggendo un libro con un'avventura che li porti anche a mediare a capire forse però appunto non abbiamo ancora pensato il libro però pensiamo che sia che sia una tematica che merita un libro io ho fatto stassi così allora appunto le prossime tematiche ecologia chiaramente penso sia in pole position in questo momento come come vi muovete come vi muovete nella disordinata ah ok perfetto posso ho già capito ci troviamo perfettamente allora allineate in questo momento stiamo scrivendo il secondo come vi muovete voi così però noi non diciamo disordinata lo diciamo in un altro modo un po' più forte più colorito ecco però anch'io vorrei ringraziarvi perché credo che in questo lavoro di missione parità che si rivolge ai ragazzi più giovani il lavoro che fate voi con le mamme e che quindi si riverbera proprio sicuramente sulle famiglie di presa di coscienza fare gruppo raccontare la realtà com'è riderci sopra che è importantissimo essere fieri dei propri difetti fare i contest alla cosa più brutta che hai fatto cioè è tutto un percorso liberatorio bellissimo utilissimo che che personalmente ecco in un mondo in cui anche io vedo tutti perfetti tutti bravissimi tutti avanti tutti performantissimi potersi sentire bene anche per una mancanza dimenticanza è bello è importantissimo e quindi credo adesso perché noi partiamo siamo tutti partiamo tutti con le migliori intenzioni noi non vogliamo quasi mai fare deliberatamente male le cose però purtroppo siamo talmente cariche sovraccariche di cose da fare noi donne in particolare che siamo in questo periodo di transizione in cui abbiamo ancora tutti i ruoli che avevamo precedentemente a quando non dovevamo lavorare e anche poi tutti i ruoli tutto quello che deriva dal fatto che invece lavoriamo adesso quindi abbiamo un sovraccarico ed è inevitabile cioè io mi rendo conto che a volte mentre lavoro scrivo sto pensando a una cosa da scrivere per un cliente penso al ok devo prendere la cosa per danza per allora devo iscrivere il modulo la cena cioè c'è troppo l'hai fatto l'ise? lì vabbè no l'ho deciso non lo faccio siete ricordate non lo farò e e quindi mi rendo conto che c'è veramente siamo tutte sovraccariche non dico che gli uomini non lo siano perché molto probabilmente lo sono anche loro però in qualche modo loro riescono a concentrarsi a fare una cosa per volta e questa cosa noi gliela riconosciamo anche come un limite ma beati loro cioè questa cosa che io sono multitasking io non voglio essere multitasking perché questo essere multitasking mi corrode l'anima mi consuma la vita quindi preferisco preferirei anche io fare una cosa per volta no e e quindi sicuramente sbagliare è un modo per vedere vedere il nostro lato umano e farci una carezza dobbiamo essere più autoindulgenti e anche più indulgenti verso le nostre colleghe perché siamo sempre pronte ad additare quella che fa non fa la cosa nel migliore dei modi perché il figlio va a scuola un po' con i capelli chi se ne frega basta cioè stiamo sopravvivendo ci stiamo barcamenando in un momento in cui è difficilissimo perché veramente siamo in una fase di transizione io non credo che le nostre figlie le nostre nipotine quando saremo nonne saranno nella stessa condizione in cui siamo noi adesso spero per loro che avranno già avranno guardato il fiume noi siamo in mezzo al fiume quindi dobbiamo barcamenarci